il giorno dopo l'eliminazione della champions bentornati ben ritrovati tutti quanti ragazzi giornata complicata giornata difficile perché quando si abbandona sempre la massima competizione europea come fai forza di cose dopo il giorno dopo il giorno di domande riflessioni pensieri ragionamenti ieri dicevo che è l'eliminazione che fa meno male perché non siamo usciti effettivamente ieri sera col benfica uscendo ai gironi non accadeva da quanto nove anni quasi dieci anni beh uscendo direttamente ai gironi l'eliminazione te la costruisci nel tempo e quindi non c'è sorpresa all'interno di questa delusione però poi bisogna anche avere secondo me il coraggio di fare l'analisi giusta corretta perché io ricordo di essermi veramente incazzato con allegri l'anno scorso poste juve villareal quando ha detto parlare di fallimento e disonestà intellettuale mi aveva fatto veramente girare le scatole perché il tifoso ha diritto a considerare un'uscita della juventus in casa per 3 a 0 col villareal agli ottavi di champions un fallimento ne ha tutto il diritto soprattutto se è inserito in una stagione in cui comunque non andava niente e quando ieri sera ho sentito ancora una volta dire che non è un fallimento essere usciti al girone di champions mi sono girate per due le scatole qualcuno ieri sera mi ha detto che non ho avuto le palle di analizzare il problema nel vero senso della parola ma ragazzi io allegri l'avrei esonerato settimane fa e quella cosa non cambia ve l'ho già spiegata nel momento in cui dico che per me l'allenatore va sostituito va cambiato va esonerato si torna indietro si torna indietro soltanto di fronte veramente al miracolo al fatto al campo che ti parla ti dice oh sai si è invertita la tendenza in maniera seria ma nel momento in cui vi dico cambierei massimiliano allegri e questo viene prima addirittura di monza juve monza juve ne ho la conferma definitiva poi non si torna indietro è inutile che io stia qua tutti i giorni a ripetervi che cambierei l'allenatore lo cambierei è inutile quindi io aspetto semplicemente la pausa nazionali perché per il mondiale io io credo ma soprattutto spero che la juventus possa fare un serio ragionamento una serie analisi e prendere in considerazione l'ipotesi di allontanare l'allenatore è inutile girarci intorno io vi invito a scaricare numero 10 link per l'applicazione è qui sotto in descrizione è completamente gratis perché ci saranno dei contenuti esclusivi che usciranno sul numero 10 magari parleremo anche proprio del futuro di massimiliano allegri quindi scaricatela gratuitamente sia per riesco che per android l'altro giorno vi dicevo che però secondo me c'è una persona più responsabile addirittura rispetto a massimiliano allegri ecco la persona del presidente andrea agnelli quindi solitamente il giorno dopo un'eliminazione cerco di mettere un po insieme i pensieri e di capire cosa sono le cose che non funzionato ma nel momento in cui esce ad ottobre solitamente si esce almeno a marzo nel momento che esce ad ottobre c'è poco da salvare c'è poco da ragionare c'è poco da star qui a individuare i problemi c'è anzi la necessità probabilmente di cambiare in maniera forte decisa e secondo me i due grandi colpevoli di questa disfatta sono appunto il presidente andrea agnelli e l'allenatore massimiliano allegri perché c'era la possibilità durante la prima pausa nazionale di cambiare perché i segnali erano evidenti la juventus andava verso la disfatta quest'anno mi sono preso tante volte del pessimista ma probabilmente sono stato anche fin troppo ottimista perché vi dico la verità io non pensavo di arrivare a dei livelli così bassi quest'estate quando vi dicevo che il mercato è stato fatto sì in un certo modo ma che non mi soddisfava perché mancava qualcosa sugli esterni ma soprattutto in difesa mancava almeno un altro centrale di livello quante volte c'è stato questo ritornello nei miei video quest'estate e leggere smettere di giocare a fifa che cosa pretendi la juve questa se non ti piace ti fa non sono commenti costruttivi non lo sono mi dispiace sono soltanto commenti di ok va bene qualsiasi cosa accada però poi i risultati sono questi la rosa era costruita male nel reparto difensivo e avere in panchina un allenatore come massimiliano allegri e dargli in mano un reparto difensivo di quel livello lì secondo me è un controsenso perché la rosa è stata costruita secondo il volere di allegri no secondo i dettami i giocatori che hanno già esperienza sono già pronti per giocare hanno dei ruoli predefiniti il vice vlaovic che milic che però può fare anche altro può giocare anche insieme paredes che è regista di maria che è il campione ritorno di pogba c'è stata seguita una logica per quella che era la necessità di allegri però se poi gli dai in mano una squadra che in difesa ha delle individualità scarse l'impostazione di gioco di allegri è sempre sollecitata no è sempre stressata dal gioco degli avversari che provano farti gol se dietro hai dei singoli di medio basso livello diventa un problema io salvo bremer perché bremer mi ha convinto fino adesso magari non al 100 per cento ma sicuramente è stato un acquisto di livello futuribile puoi costruirci quando l'altro giorno vi dicevo per me non ha senso rinnovo di bonucci per me non ha senso rinnovo di bonucci rugani nel 2023 ancora la juventus gatti non è palesemente pronto ma lo può diventare allora serve anche la forza il coraggio di avere le palle davvero bisogna avere le palle per un'inversione di tendenza forte perché se io vado a ragionare negli ultimi anni perché fosse un anno ti dico vabbè è un anno isolato succede capita può starci però all'ajax ai quarti il lione agli ottavi il porto agli ottavi il villareal agli ottavi il maccabi aifa e il benfica ai gironi ma più che benfica perché ti ha veramente dato una lezione di calcio il maccabi aifa quest'altro anno probabilmente la champions nemmeno ci qualificheremo e allora noi dobbiamo capire che non stiamo più uscendo contro gli squadroni stiamo più uscendo contro la madre di ronaldo che va a vincerti tre champions di fila stiamo più perdendo una finale di champions non stiamo più perdendo contro il bayern monaco non sono non sono queste le eliminazioni in questo momento dalla juventus non è più nemmeno il barcellone noi stiamo perdendo contro squadre che hanno decisamente spese più basse rispetto alle nostre e soprattutto hanno un'identità ben precisa e magari si affidano come nel caso del benfica di ieri sera a un paio di giocatori che comunque hanno il nome importante uno status importante che hanno fatto carriera come magari ottamendi perché ci stanno dei leader nello spogliatoio anche datati però poi la differenza in campo la fanno i giocatori comunità media minore perché se a madrid con chuamini e vinicius e valverde ti vince le champions ma te le vince anche grazie a benzema e modric capisci che un paio ci possono stare ma poi la freschezza te la danno questi perché se tutti gli anni esci dalla champions contro una squadra rivelazione che basa sui giovani la propria identità allora una domanda devi fartela perché nel momento in cui escono bonucci e quadrado che sono due rappresentanti anche della vecchia guardia della juventus del vecchio ciclo della juventus ed entrano miretti healing e sulle e ti svolta la partita c'è qualcosa vorrà pur dire che nel calcio di oggi nel calcio di oggi da qualche anno a questa parte si è presa una strada che va in netta contrapposizione rispetto a quella che si era presa negli anni e allora a un certo punto bisogna avere le palle le palle di invertire la tendenza e di cercare la strada più lunga possibile perché allegri quest'estate parlava di scorciatoia presa dalla juventus per tornare a vincere e allegri quest'estate parlava anche di obiettivo minimo passare il turno di champions poi allegri è stato a parlare di provare a vincere invece che vincere ieri mi ha parlato di non fallimento l'uscire al girone di champions e allora questo ritrattare in corsa gli obiettivi a me non piace a me non piace non mi piace non mi fa piacere non mi può far piacere soprattutto perché in un momento simile in cui esci a ottobre dalla champions league e adesso vediamo mercoledì col psg come finisce perché io ero negativo col maccabi e mi sono preso delle imbecille ero negativo col benfica pensando in prenderne quattro mi sono preso delle imbecille adesso vi dico col psg è da dire che non faremo nemmeno un altro punto che l'europa league verrà messa addirittura a rischio e che si rischia anche la figuraccia in casa nell'ultima di champions prenderò ancora dell'imbecille probabilmente prenderò ancora del negativo del disfattista però ragazzi bisogna anche avere le palle loro di analizzare la situazione ma anche le palle noi di capire le cose come stanno non sto dicendo che spero che la juve perda perché la speranza sarà sempre di vedere la juve vincere la speranza sarà di vedere la juventus dominare palleggiare in faccia al psg ma nel calcio queste cose non sono dovute l'anno scorso vi avevo parlato di atto di fede nella conferma di massimiliano allegri perché non ci si poteva fare altro perché sulla carta aveva fatto meno dei predecessori che erano stati esonerati e la stagione era fallimentare cioè era inutile girarci intorno parlato di atto di fede si vuol dare un altro anno d'allegri perché gli si è fatto un contratto lungo si è fatta la follia di dare uno stipendio alto era impossibile esonerare bene allora facciamo un altro anno costruiamo la squadra che vuole lui vediamo siamo andati peggio dopo due mesi perché questo è il punto è dopo due mesi quindi è impossibile è ragazzi è letteralmente impossibile stare qui a difendere delle scelte a difendere questo progetto perché questo progetto è fallito e se non si ha il coraggio di dire che il progetto allegri è fallito in questo momento allora non possiamo andare avanti nella discussione perché continuare a dire eh sì però i giocatori eh sì però qui eh sì però lì eh sì però ieri sera va in campo così perché comunque come sempre come sempre e basta anche qui analizzare i numeri e l'abbiamo fatto all'inizio dell'anno come sempre dal ritorno di allegri gli infortuni muscolari sono aumentati e allora non abbiamo nemmeno il coraggio di mettere in dubbio lo staff che lavora a livello atletico e che permette all'allenatore di avere a disposizione la squadra perché poi è ovvio mi dice però ieri sera mckenni questo quell'altro che è bene però perché non può giocare milic dall'inizio perché si porta dietro sta affaticamento dei 4 5 partite che non parte dal primo minuto perché le paredes si è stirato ancora una volta perché vabbè chiese poco basso due cose diverse perché bremer al risentimento perché di maria si è fermato per unesima volta ragazzi queste cose non le puoi mettere cioè non puoi girarci intorno fermo restando come vi dicevo che anche il fatto che miletti sia scomparso completamente dai radar per me è una follia per me è una follia perché in questa juventus in questo centrocampo in questo momento in cui non vinco almeno voglio valorezzare i giovani i giovani che dimostrano di essere pronti fagioli probabilmente non sta dimostrando di essere pronto miretti sì e allora perché gioca mckenni invece di miretti perché mckenni non sta dando niente a questa io ieri sera ha fatto gol sì certo ok su una mischia perché ieri sera si è stati dominati c'è inutile girarci intorno è il risultato ieri sera è bugiardo perché quella partita lì non deve mai finire nella vita 4 a 3 per quello che è il merito nel calcio quella partita lì finisce 6 7 a 2 6 7 a 3 se vuoi farli 2 e 3 perché non te li tolgo però 4 a 3 forse ti dà anche una lettura sbagliata di quella che è stata la singola partita però ti deve dare una lettura giusta di quello che è stato il girone della juventus guardarlo vedere che gli stessi punti il maccabi haifa perso col psg perso col benfica perso col benfica perso col maccabi vinto col maccabi cinque partite giocate una sola vinta in cinque partite giocate con il timore concreto di non fare nemmeno più neanche un punto di chiudere il girone di champions a tre punti e devo sentire che non è un fallimento e devo sentire che va bene così che sono stato negativo che sono negativo ragazzi ma parlando di calcio bisogna analizzare anche quello che il campo ci dice stiamo parlando di speranze e basta non stiamo facendo un'analisi basata sui fatti e i fatti oggi ti dicono che così non si può andare avanti che c'è necessità di invertire la tendenza sul discorso legato ai rinnovi dato che quest'estate in scadenza si vanno quadrado alexandro di maria rabiot me ne ricordo altri forse anche altri l'anno prossimo ancora rugani lo stesso bonucci che però voglia rinnovare a quanto pare per qualche motivo strano è ora di iniziare a distaccarsi dal modus operandi che ha portato alle eliminazioni con ajax porto lione compagnia cantante di ammettere che questo modo di ragionare di lavorare non sta più funzionando che se la viventus vuol davvero essere sostenibile autosostenibile deve iniziare a valorizzare i giovani e non me ne frega niente se i gatti ieri sera ha fatto degli errori nel suo esordio in champions league non me ne frega niente se miretti all'andata procura il rigore contro il benfica e perdi per quel rigore non me ne frega niente perché tu quelle altre partite sia andata che con ritorno ne potevi prendere altri 10 e l'errore non nasceva né da gatti né da miretti ma dato che hai la possibilità di far fruttare degli investimenti o dei talenti che sono cresciuti all'interno del tuo settore giovanile non vedo perché tu non debba farlo ieri sera potrebbe essere scoppiata anche l'ora di healing non lo so è troppo presto però certo che l'esordio in champions league di un ragazzo del genere che dà questa grinta qua l'altro giorno esordio in serie a fa la sturi che ormai mi reti fa gol cioè vuol dire che qualcosa c'è su questo ragazzo lo sfruttiamo o non lo sfruttiamo facciamo finta di niente faremo ancora finta di niente faremo ancora finta di niente che cosa vi devo dire diamoci un altro allora facciamo giocare un altro se non iniziamo a capire che gli altri che in questo momento stanno facendo risultati stanno andando avanti nelle competizioni stanno creando una base per il futuro utilizzano certi ragionamenti che noi non stiamo facendo da anni perché siamo rimasti bloccati sui ragionamenti di quando si vinceva sempre e basta beh allora non andiamo avanti allora non andiamo avanti ma anzi andiamo indietro e ci vorranno tanti altri anni finché non avremo la presa di coscienza e questo è il momento giusto questo è il momento giusto per capirlo perché se esce ottobre dalla champions league in un girone del genere facendo un girone del genere giocando un girone del genere in una situazione in campionato del genere dopo una stagione dell'anno scorso del genere dopo un calcio mercato in cui non hai avuto nemmeno lucidità di capire che il reparto difensivo non era dato alla juventus e quindi ritrovarti ancora un'ottima situazione del genere e se non capiamo nemmeno oggi allora non capiamo mai non capiamo nemmeno oggi se non riusciamo a fare quel passettino mentale successivo oggi non lo possiamo più capire non lo capiremo mai mai lo capiremo c'è bisogno di una decisione forte c'è bisogno di una presa di consapevolezza di coscienza forte poi ovvio che le colpe sono anche dei giocatori le colpe sono anche di cherubini di arriva bene di nedved non me ne frega niente ma il grande potere decisionale che ha portato a questa situazione parte da andrea agnelli che decide di dare una seconda possibilità massimiliano allegri che decide di dargli neanche una terza e che decide di dargli neanche una quarta perché a un certo punto bisogna scindere davvero dividere i ragionamenti che vengono fatti sulla base logica sulla base meritevole di quello che ti dice il campo e i ragionamenti fatti per ossessione perché a questo punto penso che ossessione sia l'unica parola giusta o fede ancora una volta perché o c'è un culto religioso legato al figlio di massimiliano allegri e non me ne frega niente di sentirmi dire sì però chi lo paga e sì però costa troppo non me ne frega niente perché i danni che ha subito la juventus ieri sera con l'eliminazione della champions sono superiori nettamente superiori allo stipendio di massimiliano allegri da riconoscere in tot stagioni e poi che cosa significa che quindi fino al quarto anno arriveremo ad avere massimiliano allegri in panchina qualsiasi cosa accada perché tanti soldi li devi dare perché non è che se arrivi a quest'estate poi lo puoi esonerare perché poi il problema rimane che i soldi li devi dare il problema rimane perché ci sono altri due anni di contratto non è questo però io non voglio non la voglio nemmeno più sentire questa frase perché poi i risultati sul campo non li possiamo ignorare alla base dei risultati economici perché i risultati sul campo ti portano a raggiungere determinati risultati economici non sappiamo nemmeno se ci qualificheremo per l'europa league non sappiamo nemmeno questo e vincendo l'europa league ti fai 20 milioni di euro che sono praticamente gli stessi che avresti ottenuto passando agli ottavi vincendo l'europa league cosa non scontata perché comunque il livello dell'europa league si è pure alzato in questa edizione quindi se ieri sera non vi ho detto che esonererei massimiliano allegri ma ragazzi ma che cosa devo dire tutte le volte il progetto è fallito il progetto massimiliano allegri è fallito non ha senso che io stia qui a dirvelo tutte le volte non ha minimamente senso queste cose non cambiano il fatto ma anche l'analisi che fa allegri nella partita di andata col benfica il giorno prima della partita per me è follia quando dice abbiamo perso per due ripartenze ma di cosa stiamo parlando ma il benfica ci ha umiliato l'andata e il ritorno benfica ci ha dimostrato di essere più forti noi il benfica si è meritato ci ha dimostrato di meritarsi il passaggio successivo di andare agli ottavi al posto nostro sono una squadra antipatica che darà del filo da torcere a tutti sono una squadra meritevole di essere sono una squadra ancora imbattuta in europa ancora imbattuta in europa potevano farcene sei o set hanno sbagliato dei gol clamorosi al termine di azioni in cui non ci abbiamo capito nulla e noi non siamo mai riusciti se non nel momento di blackout loro in cui avevano sbagliato troppi gol e pensavano ormai di averla vinta non siamo stati in grado di fare niente se non di passare la palla a healing che era stata la nostra unica boccata d'aria non è questo non può essere questo il modo di affrontare una partita di champions league tra l'altro healing che entra soltanto perché ormai a partita persa si decide di dare priorità al riposo al turno di alcuni giocatori in vista della prossima partita di campionato con lecce e se non è questa un se non è questo un fallimento nello sport io voglio sapere qual è un fallimento nello sport qual è il fallimento nello sport se non è questo il fallimento nello sport perché se non possiamo parare oggi di fallimento allora non possiamo parlarne mai progetto massimiliano allegri è fallito e con il fallimento del progetto massimiliano allegri si deve portare dietro anche chi ha deciso di optare e di difendere ancora così a lungo il processo il progetto massimiliano allegri perché l'ho sempre detto allegri e gnelli sono due persone con il filo rosso del destino che li unisce e oggi siamo arrivati al punto di non ritorno secondo me anche soprattutto perché comunque continuo a leggere notizie che vanno proprio nella direzione da seguire che in questo momento dovremmo cercare di lasciarci alle spalle e cioè rinnovo di determinati giocatori soltanto perché hanno il nome e no abbiamo visto che non è questo concludo per quelli che mi dicono eh sì però hai visto che cosa danno questi calciatori in campo hai visto il livello dei calciatori con cui andiamo in campo voi siete davvero convinti che questo sia il massimo in grado di dare da Vlaovic siete davvero convinti che Vlaovic possa dare soltanto questo come suo massimo io no io credo che Vlaovic stia dando il minimo indispensabile di quello suo potenziale perché io non so se metti Vlaovic nel Manchester City al posto di Holland quanti gol in meno ti fa rispetto al norvegese sicuramente qualcosa in meno te lo fa perché Holland è più forte di base ma Vlaovic è un gran bel signor giocatore che in tanti in questo momento stanno dando la colpa a Vlaovic che non fa abbastanza gol per far gol bisogna mettere nelle condizioni migliori per segnare l'attaccante per fare gol bisogna anche cercare di valorizzare il tuo gioiellino cercando di costruire intorno ad esso una costruzione di gioco che permetta l'attaccante rifare gol non è che c'hai Vlaovic allora fa gol cioè non funziona così non stai davvero giocando alla playstation devi metterlo nella condizione di far bene e per farlo devi lavorare giorno per giorno per quello che vi dico in questo momento sono svuotato sono pessimista io non sto vedendo partita dopo partita non sto vedendo niente di più per arrivare a dargli dei palloni se non in alcune occasioni che facciamo delle ripartenze facciamo dei break e quindi ripartiamo in avanti è l'unica cosa che vedo ma in questo momento mi basterebbe vederla in tutte le partite in questo momento giuro mi accontento di poco mi basterebbe vedere quella roba lì in tutte le partite e non siamo in grado nemmeno di far quello ma non dico mica in champions vi dico in serie a dico in serie a non siamo in grado nemmeno di fare quello perché boh non lo so non lo so perché bisognerebbe chiederlo ad allegri perché vediamo che questa cosa funziona ma non la facciamo sempre bisognerebbe chiedere ad allegri perché ci spegniamo di tanto in tanto non è colpa l'allenatore allora di chi è colpa mia allora l'allenatore non ha mai colpe giocatore non ha mai colpe dirigente non ha mai colpe si esce ai gironi agli ottavi non è fallimento si fanno 200 milioni di debiti il rosso nel bilancio ma non si può dire che è una cosa che non si deve fare ragazzi che cosa vi devo dire l'area inizia a diventare irrespirabile in questo modo tifosi non vanno allo stadio ma in realtà i paganti anche se non ci vanno quindi va tutto bene non va tutto bene niente ragazzi va tutto male cioè va tutto ma non è che se uno dice che le cose vanno male non ti fa per la juventus santo dio è ancora più innamorato della juventus e in questo momento vuole saltarci fuori da questa situazione perché uno che dice che la juventus così va bene perché non è un fallimento e tutto il resto la juventus non vuole bene perché questa qui non è la fotografia della juventus è inutile girarci intorno a questo concetto mi dispiace se la pensate diversamente mi dispiace rispetto il vostro pensiero ma non lo condivido oggi c'è bisogno di una presa di consapevolezza e di cambiamento forte importante perché così non sta funzionando ma non è che non sta funzionando da oggi non sta funzionando da 4 5 anni quindi o si inverte la tendenza o si va ancora più a fondo di così che abbiamo già detto mille volte che abbiamo toccato il fondo ma si può fare sempre peggio